Oltre ai 15 famigli abruzzesi su 100, cioè il 15,6% del totale nel 2017, sono in una condizione di povertà relativa. La situazione è peggiorata drasticamente rispetto al 2016, anno in cui il dato si fermava al 9,9%. Pur essendo la regione in cui si regista il dato migliore del mezzogiorno, l'Abruzzo è tra le 7 regioni con indice di povertà maggiore e con un aumento di oltre 5 punti percentuali tra i più alti in Italia. Ad analizzare i dati contenuti nel rapporto Istat alla povertà in Italia e la CGL Abruzzo, che auspica l'immediata attivazione da parte della regione del tavolo dell'Alleanza contro la povertà, a cui partecipano sindacati e soggetti vari, e la predisposizione del piano nazionale, come previsto dagli accordi, perché ad oggi nulla di ciò è stato fatto. Intanto, nei giorni scorsi è stato registrato alla Corte dei Conti il decreto di riparto delle risorse del Fondo Povertà, che risulta pienamente vigente. La pubblicazione del decreto del relativo piano di interventi, sottolinea la segretaria regionale del sindacato, rende prioritaria la sollecitazione delle regioni per la predisposizione dei piani, al fine di ricevere quanto prima le risorse stanziate per il 2018, e l'avvio di tutte le iniziative possibili nei confronti dei comuni per la messa in atto degli interventi previsti, a partire dall'assunzione del personale finalizzato al necessario rafforzamento dei servizi territoriali. La CGL, in che usa il suo intervento, auspica che ogni regione rispetti gli accordi, dotandosi di un piano regionale per la lotta alla povertà, o un altro atto di programmazione volto a rafforzare il sistema di interventi e dei servizi territoriali necessari per l'attuazione della misura, utilizzando le risorse disposte dal decreto, eventualmente integrate con risorse proprie. La regione Abruzzo quindi deve procedere al più presto a predisporre il piano regionale, al fine di ricevere le risorse stanziate. Le somme che per il 2018 sono state assegnate all'Abruzzo, per il finanziamento dei servizi e per l'accesso al reddito di inclusione, ammontano ad oltre 6 milioni di euro.